Musica Presentata ieri mattina a Roma presso la sala stampa della Camera dei Deputati, la quinta edizione di MUWIC, Settimana di Immobilitazione Europea, che promuove la salute attraverso il movimento e lo sport per tutti. Perché oggi è il giorno delle scale, ma è inserito in una settimana di iniziative che si svolgono in tantissimi comuni d'Italia, nell'ambito della settimana europea, quindi anche in tantissime città d'Europa, che appunto hanno il segno del sport e dell'attività fisica della sala. Ieri in molti uffici pubblici si è tenuta una scala al giorno, iniziativa promossa da ANCI e WISP, con l'invito a scegliere l'utilizzo delle scale al posto degli ascensori in decine di comuni. Roberto Pella, vicepresidente ANCI, ha detto MUWIC è la dimostrazione di come il valore sociale dello sport sia una conquista di civiltà e benessere per tutto il nostro paese. Lo voglio dire in maniera molto franca, sincera, onesta e ufficiale, della grande considerazione che l'ANCI e io personalmente abbiamo nei confronti della WISP, perché devo dire che di enti di promozione sportiva ce ne sono, ma che fanno veramente attività pure della popolazione, nella sua completa partecipazione dai giovani, dai meno giovani, agli anziani, disabili, sono assai pochi. Credo che un'ulteriore volta oggi è data dimostrazione di come la WISP può veramente essere vicina ai propri cittadini. Abbiamo costantemente bisogno di sentirci un'organizzazione che non soltanto ha rapporti internazionali e quindi stimola anche a quel livello, nel livello europeo, la necessità di promuovere stili di vita attivi, come si diceva e come abbiamo ascoltato, ma soprattutto rivendicare il diritto di ognuno al benessere e una buona qualità della vita. Quindi abbiamo bisogno di guardare ad un'Europa che sia l'Europa che ci piace, l'Europa solidale, l'Europa del sociale, perché di fatto oggi le circa 180 iniziative che si svolgeranno nell'arco di questa settimana, la 23 è già iniziata, oggi con una scala al giorno nel rapporto con l'ANCI e concluderemo il 29, e non sono altro che un nostro contributo, il più grande tra l'altro dal punto di vista dei numeri, rispetto a quelle che sono le migliaia di iniziative messe in campo da 35 paesi europei, che alla fine oltre a promuovere sani stili di vita e a promuovere occasioni di sport per potersi divertire, per star bene, secondo noi, secondo la Guispa, lanciano anche un segnale di grande volontà di ritrovarsi nelle piazze, nei luoghi, quindi dare un taglio fortemente sociale. Piero Fassino, presidente ANCI e sindaco di Torino, ha inviato un videomessaggio nel quale invita i cittadini a fare movimento e a usare le scale per mantenersi in salute. Sono già stati registrati quasi 1800 eventi in tutta Europa. Guispa e ANCI sono in prima fila per sostenere la campagna in Italia, con 180 eventi in 70 città, che si stanno succedendo da lunedì scorso e termineranno domenica 29 maggio. Grazie a tutti.